Con 1.081 voti favorevoli, 169 contrari e 13 assenuti, l'Assemblea Nazionale dell'ANM ha deliberato un giorno di sciopero dei magistrati italiani contro la riforma a Cartabia. È prevista anche la possibilità di ulteriori forme di protesta. La riforma dell'ordinamento giudiziario è stata approvata dalla Camera ed è ora all'esame del Senato. Non scioperiamo per protestare ma per essere ascoltati, hanno scritto i magistrati che hanno aggiunto di non essere contro le riforme, ma per far comprendere di quali la magistratura ha veramente bisogno. Grazie